E per fare chiarezza in vista della scadenza elettorale arriva la conferma di quanto detto e delle problematiche dei vari partiti a livello locale. È Melania Fadda, coordinatrice provinciale di Futuro e Libertà, a specificare che Francesco Galleri non ricopre alcun ruolo dirigenziale all'interno del partito Futuro e Libertà per l'Italia, tanto meno è il coordinatore cittadino di Alghero. Come ben noto, il Circolo Fli di Alghero è stato commissariato dall'ottobre 2011 con il conseguente azzeramento di ogni carica. Alla data odierna non è stato ancora indetto il congresso cittadino, pertanto gli iscritti non hanno eletto un proprio rappresentante. Galleri non ha quindi alcun titolo per parlare a nome del partito. Grande partecipazione sabato sera ad Ittiri per il Consiglio Comunale Aperto e la fiaccolata a sostegno del sindaco Orani, vittima di un atto intimidatorio contro la sua casa. Presenti tanti amministratori, compresi quelli di Alghero e Sassari. Ittiri è scesa in piazza per manifestare sabato sera contro l'attentato che ha visto vittima il suo primo cittadino Tonino Orani. La notizia del grave episodio, riportata da CatalanTV Alghero, notizie.it, ha suscitato grande sconcerto tra gli amministratori e le forze politiche del territorio, fino anche al presidente della regione Sardegna, Ugo Cappellacci. Ciò vista anche l'escalation degli atti contro chi all'onere di governare a livello locale. Sabato la serata si è aperta all'interno di un affollatissimo teatro, dove sono intervenuti alcuni rappresentanti politici del territorio. Poi la folla si è riversata in paese per la fiaccolata, con a capo i bambini. Circa 2000 persone, non solo del paese, si sono volute riunire per dare un messaggio concreto contro ogni forma di violenza. Non si contano infatti più gli episodi di questo tipo nell'isola. Le forze dell'ordine tutte si prodigano ogni giorno con uomini e mezzi per far fronte a questa emergenza. Ma oltre l'ovvia necessità del controllo serrato del territorio, emerge l'allarme sociale. Lo stesso sindaco di Ittiri, dopo aver subito l'attentato, aveva espresso la sua preoccupazione per diversi episodi inerenti droga, furti e violenza, che non giovano sicuramente alla serenità della comunità. E torniamo ad Alghero, dove dal Comune fanno sapere che in relazione alle imminenti estrazioni degli scrutatori attraverso un software in uso presso il servizio demografico, va precisato che le procedure di legge prevedono limiti precisi. I requisiti per l'estrazione infatti sono l'iscrizione all'albo degli scrutatori, l'iscrizione alle liste elettorali del Comune di Alghero e la residenza nel Comune di Alghero. Il titolo di studio della scuola dell'obbligo per i nati prima del 1952 corrisponde alla licenza elementare. Riguardo alle recenti proposte avanzate da forze politiche che chiedono l'esibizione di un certificato attestante allo stato di disoccupazione, va chiarito che non è consentito dalla legge. Il servizio elettorale si attiene alle procedure di legge nell'espletare l'attribuzione dell'incarico. Non può chiedere quindi autocertificazioni né altri documenti. Il sorteggio, scusate, prevede l'estrazione di 218 scrutatori. Il software comporrà automaticamente la lista dei nominativi della cosiddetta riserva dalla quale attingere in caso vi fosse rinunce all'incarico. Ed ora diamo la linea alla regia, c'è la pubblicità tra poco.